Ti hanno assalito durante i corridoi per chiederti selfie, foto, autografi? Sai, viviamo nell'era del telefonino, quindi ormai queste telecamere, macchine foto digitali a 20 milioni di pixel, sono diventate un'arma impropria in mano a chiunque. Perché tu in realtà sei esploso nell'epoca in cui non c'era ancora questa follia, ancora la gente addirittura chiedeva l'autografo. L'autografo. Ah, roba dei miei antenati. Ti domandavi, ma cosa te ne fai? Dove finisce? Dove lo metti? Dove finisce? Ti sarà sicuramente capitato con l'autografo cosa ti hanno fatto firmare di incredibile? Perché a me capitava scontrini unti di focaccia, biglietti del treno tutti maciullati. Io ho firmato seni, ho firmato braccia. Ho firmato svariate parti anatomiche del corpo femminile. Sì, tutte. Non ero fidanzato all'epoca, ne sposato ovviamente, e ho approfittato del mio ruolo. Beh, ma come si dice, è lavoro amore. È lavoro amore. È quello, è lavoro purtroppo. Che cosa ci devo fare? Senti, noi e la Giulia, io ho avuto un'unica esperienza cinematografica. Complimenti tra l'altro. No, davvero, sincero. Ti ringrazio. Ma la cosa che più mi è piaciuta è stato il gruppo, perché anche quello era un film corale e è stato proprio divertente farlo. Anche il vostro è un bel gruppo. Che ospita. Vi sentite sempre? Eravate amici prima? Siete in contatto ancora adesso? Come tutti abbiamo un gruppetto Whatsapp, ma il fatto che a distanza ormai di mesi da quando finisci il set sia ancora vivo, ad esempio il gruppo Whatsapp, è un segno di escezio. Ci fai ficcare il naso nel gruppo Whatsapp? Sono Ale Cattelan, mandate foto. Grazie.